Signori buon pomeriggio, ci eravamo lasciati lunedì all'indicatore R1C che è quello che riguarda, anche qui ci ricordiamo che l'indicatore R1 è quello che riguarda l'Ateneo che definisce come sempre politiche e strategie di Ateneo e in particolare l'R1C riguarda la docenza. Nel vecchio approccio dei requisiti in Ava 1.0 vi avevo ricordato che da questo punto di vista Anvur chiedeva che l'Ateneo organizzasse tutta una serie di attività per la formazione dei docenti sul piano docimologico, ovvero capacità dei docenti sul piano della valutazione degli apprendimenti e dei meccanismi di attribuzione dei voti. Anche qui l'esperienza di questi due anni di valutazione di fatto ha mostrato che la maggior parte degli Atenei italiani, per non dire la totalità, rispetto a questi meccanismi di fatto era sostanzialmente indietro. Vi ricordo che come Team Qualità nel mese di aprile abbiamo organizzato un momento d'incontro in Aula Magna nel quale abbiamo non a caso invitato quelle poche università, mi riferisco quindi a Padova da un lato e Cagliari dall'altro, che anche se con due approcci abbastanza differenti, perché Padova ne ha fatto un vero e proprio modello di ricerca sulla valutazione degli apprendimenti, mentre Cagliari ha fatto un lavoro molto più tra virgolette operativo per dare di fatto delle risposte a quelle che erano le indicazioni dell'Ambur, rispetto a questo poi in effetti non è che si sia mosso molto. E quindi Amur in questo indicatore ha voluto riprendere la tematica ma di fatto ha alleggerito, tra virgolette adesso vediamo come alleggerito ovviamente il requisito perché di fatto mantenerlo così come era significava rendere impraticabile di fatto una valutazione. Quindi vi ricordo come l'altra volta che nella strutturazione del materiale, parliamo prima dei temi di valutazione, parliamo della documentazione di riferimento e poi per ogni punto di attenzione quali sono le indicazioni metodologiche che Amur ci dà e poi come ultima battuta la scheda vera e propria di valutazione, quindi lo strumento che poi Amur chiede venga usato dagli Atenei in fase di autovalutazione e dalle CEV in fase di valutazione. Quindi nuovamente in questo caso si ribadisce l'importanza del personale, anche in questo caso è stato fatto un lavoro di accorpamento, quindi si è messo insieme il personale docente e il personale tecnico amministrativo e ovviamente si chiede che l'Ateneo si faccia carico dei meccanismi di da un lato qualificazione scientifica e didattica dei docenti ma anche dall'altro ovviamente formare il personale tecnico amministrativo a quelle che sono le esigenze. Anche qui vedete come la presenza di personale tecnico amministrativo adeguatamente dimensionato e organizzato in funzione dell'esigenza del CDS. Anche qui nuovamente i documenti di riferimento e parliamo sempre di regolamenti in linea guida dell'Ateneo parliamo sempre di relazione del nucleo di valutazione. Altro elemento sarà quello ovviamente poi al momento opportuno di tirar fuori i regolamenti specifici che l'Ateneo dovesse aver definito non tanto e non solo nell'ambito dell'assicurazione qualità ma in generale nella gestione del personale docente. Vi ricordo che l'Ateneo come docenti lo sappiamo meno il personale tecnico amministrativo invece lo sa bene, l'Ateneo produce ogni anno un piano della formazione, questo piano della formazione riguarda il personale tecnico amministrativo facendosi carico l'Ateneo della formazione del proprio personale con riferimento agli strumenti classici se volete di gestione e automazione d'ufficio, quindi pacchetti per esempio software base per formare il personale sull'uso degli strumenti più comuni ma anche evidentemente in funzione di quelle che sono le linee strategiche dell'Ateneo e i piani performance anno su anno eventuali strumenti formativi ad hoc per gestire processi particolari, processi specifici e quindi sicuramente per esempio per il prossimo piano della formazione l'area AROF, quella della dottoressa Natale sta mettendo in atto una serie di interventi formativi proprio per affiancare e supportare il team qualità nell'ambito di una serie di azioni proprio sui corsi di studio e su AVA 2.0. Sul personale docente evidentemente non essendo prevista la formazione del personale docente all'interno del piano formativo di Ateneo viceversa è sostanzialmente il team qualità che con riferimento a questi aspetti si muove per trasferire informazione e formazione per esempio su AVA 2.0. I diversi punti di attenzione direi come la volta scorsa li andiamo a vedere direttamente nella scheda. Quindi ci ricordiamo che partiamo sempre dagli strumenti di programmazione e quindi si vanno a vedere regolamenti di Ateneo e documenti vari degli organi accademici dove gli aspetti da considerare sono l'Ateneo ha individuato e esplicitato i criteri seguiti in sede di programmazione per assicurare la coerenza del reclutamento e quindi definizione nei criteri di quantificazione delle necessità didattiche dei criteri primiali di distribuzione dei punti di organico. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Ateneo con riferimento alla assegnazione di risorse umane da un lato dovrebbe andare in una logica di premialità e la premialità sappiamo benissimo che sul piano del corpo docente è legata ai meccanismi della VQR e quindi le ultime assegnazioni, quella recentemente fatta e quella antecedente hanno visto una programmazione dell'assegnazione di punti organico sostanzialmente legata ai risultati dei dipartimenti sul piano della VQR. Dall'altro lato un elemento importante evidentemente è la valutazione delle tra virgolette sofferenze didattiche quindi in una logica di riequilibrio che sappiamo benissimo essere sempre piuttosto difficile quello di assegnare risorse ai dipartimenti che supportano corsi di studio all'interno dei quali magari per alcuni settori scientifico disciplinari sono evidenti delle sofferenze didattiche in termini di rapporto docenti CFU erogati. Ovviamente tutti questi elementi sono elementi che non troveranno riscontro nei documenti che abbiamo citato ovvero nei documenti di sistema assicurazione qualità ma troveranno riscontro nei vari documenti definiti dagli organi accademici in particolare senato accademico e consiglio di amministrazione che sono sostanzialmente le due sedi nelle quali la programmazione evidentemente trova poi realizzazione. Sono previste iniziative di Ateneo per incrementare la quota minima del 20% delle assunzioni di professori provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni quindi ricollotamento di vincitori di progetti ERC, progetti Montalcini, Chiarafama eccetera quindi vedere se in qualche modo l'Ateneo sta spingendo in una certa direzione. Anche qui ci ricordiamo che siamo nella fase politica tra virgolette di valutazione dell'Ateneo e quindi questi aspetti chiaramente hanno un risvolto di maggiore attenzione alle questioni di ricerca se vogliamo più che alle questioni di didattica anche se poi ci ricordiamo che la valutazione del corso di studio avverrà nuovamente anche per il tramite della VQR e quindi chiaramente si tende a fare sinergia in quella direzione. L'Ateneo si pone l'obiettivo di favorire con proprie iniziative la crescita e l'aggiornamento scientifico del corpo docente nel rispetto delle diversità disciplinari. Allora e qui chiaramente cominciamo ad andare su un tema che evidentemente è delicato nel senso che vi dicevo prima se parliamo degli aspetti docimologici questo è un qualche cosa sul quale gli Atenei hanno lavorato molto poco. Tra gli esempi non viene più citato in qualche modo come fatto in Ava.0 la necessità di una formazione massiva anche qui pensiamo ai nostri numeri abbiamo detto ad aprile abbiamo organizzato il seminario abbiamo preso l'Aula Magna come sede per lo svolgimento del seminario ma comunque con un corpo docente di quasi 4.000 persone capite bene che avremmo dovuto organizzare n sessioni di Aula Magna. Anche in quel caso cosa abbiamo fatto? D'accordo con Unitelma abbiamo fatto la registrazione e la registrazione evidentemente può essere messa a disposizione e quindi fruibile dai colleghi che non hanno partecipato. Allora Anvur di fatto di questo si è reso conto per cui ha cominciato a parlare per esempio possiede un centro studi o strutture di sostegno quindi la spinta che Anvur sta indirizzando con Ava 2.0 e che di fatto sta suggerendo agli Atenei è nell'emore di riuscire a organizzare un meccanismo di formazione sistematica e sistemica rispetto a questi fatti. Comincia a preoccuparti di mettere in piedi una struttura magari utilizzando le competenze che per esempio nelle facoltà di lettere piuttosto che nelle facoltà di psicologia sono disponibili comincia a mettere in qualche modo in piedi una struttura che si ponga questo problema e comincia ad organizzare iniziative e manifestazioni. Creare un vero e proprio centro che può essere un centro che svolge un'attività di servizio ma che potrebbe essere anche un centro di ricerca. Allora anche qui non ti dà un'indicazione specifica perché se lo facesse di fatto condizionerebbe troppo la vita degli Atenei però può essere un centro di riferimento all'interno dell'Ateneo nel quale a tutti gli effetti potrebbe essere un centro di servizio che fornisce magari supporto alle diverse facoltà. La Cisapienza non potrebbe proporre nulla? Sì, potrebbe tranquillamente farlo. No, oggi non ce l'abbiamo. Allora, oggi che cosa abbiamo? Abbiamo un follow up dell'incontro che abbiamo fatto ad aprile. In questo follow up che avevamo annunciato il team ha cominciato a ragionare di questi aspetti con la commissione didattica di Ateneo e ci siamo detti con la commissione didattica di Ateneo di attivare dopo l'estate la fase 2, cioè quella ricognizione di esperienze e di attività fatte nelle diverse facoltà, facoltà di ingegneria civile industriale, anche noi avevamo organizzato una giornata di questo tipo e anche noi inevitabilmente avevamo invitato Padova perché di fatto è uno dei pochi riferimenti nazionali. Non siamo evidentemente a conoscenza di altre cose, iniziative di altre facoltà. Abbiamo scoperto che la facoltà di medicina in questo meccanismo organizzativo ha una persona che si occupa esplicitamente di questi aspetti, un collega che abbiamo invitato in quella giornata di aprile. Ovviamente a questo punto quello che la commissione didattica e il prorettore alla didattica stanno mettendo in atto è una ricognizione di quello che c'è in sapienza. Appena consolidata questa conoscenza il passo successivo può essere chiamare a raccolta queste persone e istituire magari un gruppo di lavoro, un qualche cosa che comincia a macinare attività in questo senso e dargli poi una struttura, qualsivoglia che può essere il gruppo di lavoro stabile, piuttosto che un vero e proprio centro. Quando parliamo di centri mettiamo poi in piedi una macchina che può essere pesante ma perlomeno cominciare a creare iniziative di questo genere perché già questo comunque risponde fortunatamente alle indicazioni di AMBOR. E quindi organizzazione di seminari, attività formativa eccetera eccetera. I docenti ritengono utili e soddisfacenti le attività organizzate? E qui già comincia a introdurre chiaramente un altro meccanismo, laddove io volessi dare il riscontro a un fatto di questo genere, nell'indagine di clima che per esempio anche recentemente abbiamo, alla quale abbiamo risposto anche noi docenti, dovremmo cominciare a prevedere la possibilità di inserire un certo numero di domande che permettano di fatto di rispondere a questi elementi. Oppure dovremmo pensare di inserire domande di questo tipo per esempio all'interno del questionario docenti, anche se il questionario docenti di fatto essendo ripetitivo diventerebbe poco utile per uno scopo di questo genere. Oppure fare un questionario ad hoc, sono tutte cose che ovviamente l'Ateneo può decidere di fare. Sull'R1-C2 e quindi sul secondo indicatore, l'Ateneo garantisce che i CDS dispongano di adeguate risorse e qui cominciamo a riprendere quello che abbiamo detto la volta scorsa. L'Ateneo garantisce e quindi vuol dire l'Ateneo è impegnato nel fare in modo che queste risorse effettivamente ci siano. Che cosa? I CDS dispongano di adeguate risorse, strutture e servizi di supporto alla didattica e agli studenti. Ad esempio biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT e tali strutture e servizi di supporto sono facilmente fruibili da tutti gli studenti. Quindi nuovamente elementi di questo tipo sono molto impegnativi per l'Ateneo. Anche qui nelle osservazioni che abbiamo fatto ad Ambur, ovviamente ragionando nell'interesse dell'Ateneo abbiamo segnalato l'opportunità che il termine venisse in qualche modo derubricato, abbassato di livello, perché altrimenti immediatamente potremmo essere praticamente sicuri che buona parte degli Atenei italiani rispetto a questo punto di attenzione non riuscirebbero a soddisfarla appieno. L'Ateneo verifica periodicamente l'adeguatezza numerica e organizzativa del proprio personale tecnico-amministrativo in funzione delle esigenze di gestione della didattica e della ricerca. È chiaro che questa frase è molto meno pericolosa, perché mi chiede di verificarlo, dopodiché anche qui, brutalità per brutalità, io lo verifico, prendo atto del fatto che sicuramente tutti i presidenti di corsi di studio mi diranno che non è adeguato, poi di fatto farò quello che posso fare, ma non c'è il termine garantisce, che è chiaramente molto impegnativo. Sostenibilità della didattica, ritorno a qui il parametro DID, che nel DM47 del 2013, vi ricordo, era uno dei requisiti, quindi se il parametro DID non fosse stato soddisfatto così come non fossero stati soddisfatti i requisiti di docenza, non ci sarebbero state le condizioni per l'accreditamento iniziale e ovviamente poi successivamente per l'accreditamento periodico, col DM1059 dello stesso anno, quindi del 2013, i requisiti di docenza sono stati abbassati portandoli da 4 docenti per ogni anno a 3 e viceversa il parametro DID è diventato un indicatore di qualità e non un vincolo all'accreditamento del corso di studio. Viene comunque ad essere verificato, quindi l'Ateneo possiede una strategia per ottimizzare la quantità complessiva di ore di docenza assistita erogata, in relazione al limite previsto per il parametro DID. Vi ricordo anche che gli Atenei che portano a casa buoni risultati sulla VQR hanno la possibilità di aumentare la quota di docenza erogabile per ciascun docente, quindi chiaramente possono avere un parametro DID più alto rispetto agli Atenei che non ottengono una buona valutazione sulla VQR. In particolare l'Ateneo dispone di strumenti, scusate, l'Ateneo garantisce che tutti i cicli attivati di un CDS possano contare su una sostenibilità a regime, questo ovviamente è previsto per legge, quindi io già nel momento in cui pianifico devo garantire la sostenibilità a regime, ovvero per i tre anni di corso. Cosa diversa è se io attuo una strategia di lungo termine, ovvero non mi limito a fare una valutazione sui tre anni previsti dalla norma, ma faccio una valutazione su un periodo più ampio tenendo conto dei pensionamenti futuri e di tutte quelle che potrebbero poi essere le problematiche per un corso di studio. L'Ateneo, in particolare l'Ateneo dispone di strumenti per rilevare e gestire il quoziente studenti-docenti dei propri CDS e agisce per sanare le eventuali aree di sofferenza e questo ritorna nuovamente con le considerazioni fatte sull'indicatore precedente perché poi nell'assegnazione di risorse dovrei tener conto di queste situazioni. Fermo restando che ci sono le numerosità definite dai documenti ministeriali per le diverse classi di laurea piuttosto che di laurea magistrale. Qualora il parametro DID non venga rispettato, il superamento è giustificato dalla presenza di iniziative volte ad aumentare l'efficacia, quindi se fraziono su più canali per fare magari migliori esercitazioni, quindi tutte quelle situazioni che sono mirate di fatto a garantire un maggior acquisizione di conoscenze da parte degli studenti. come dicevamo il sistema poi va a guardare quelli che sono i requisiti per gli atenei telematici, ma attenzione ci ricordiamo che valgono anche per gli atenei tradizionali che però hanno dei corsi di studio blended o telematici, quindi anche qui vediamo il parametro, ovviamente si vanno a guardare, non mi ci soffermo più di tanto, ma vanno a guardare quindi le caratteristiche dei sistemi informatici e quindi del software che garantisce la funzionalità dell'apprendimento a distanza e quindi si vanno a vedere le architetture di sistema, quali sono le capacità di questi supporti software per permettere l'accesso degli studenti, la fruibilità dei diversi ambienti di apprendimento, quali sono i diversi tool, quali sono i diversi profili di accesso e ovviamente la possibilità di realizzare più facilmente per esempio un confronto docenti-studenti anche ovviamente in remoto e quindi la possibilità di avere aule virtuali, organizzare momenti di contro, conferenze dove questi elementi possano essere adeguatamente sfruttati. Vi ricordo che gli atenei telematici devono avere una carta dei servizi e quindi ovviamente si chiede che venga verificata la coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto definito nella carta dei servizi. E poi in particolare tutti gli elementi che permettano i diversi momenti di accesso e di registrazione da parte degli studenti. Andiamo sul requisito R2, il requisito R2 è fatto di due indicatori quindi comincia ad alleggerirsi rispetto alla struttura dell'R1 che è piuttosto corposo, poi tornerà evidentemente ad appesantirsi nel momento in cui andiamo all'R3 su quello della didattica al quale cerchiamo di avvicinarci velocemente perché poi diventerà l'oggetto del nostro lavoro. Abbiamo detto cosa l'Ateneo definisce in termini di politiche, cosa fa in termini di politiche di didattica, ricerca e terza missione anche se di fatto poi avete visto che nell'R1 si tende a concentrarsi poi esclusivamente sulla didattica, rimandando all'R4.a le tematiche della ricerca. Nell'R2 nuovamente si conduce il gioco esattamente nella stessa logica, si dice sono state definite le politiche, a questo punto nell'R2 voglio andare a vedere come queste politiche vengono effettivamente attuate dai corsi di studio in particolare e quindi cosa l'Ateneo ha schierato per fare di fatto monitoraggio di quello che gli Atenei fanno. E quindi l'R2a riguarda il monitoraggio del funzionamento dei corsi di studio, l'R2b riguarda l'accertamento del fatto che quanto io ho definito i processi necessari per realizzarli, vengano anche periodicamente autovalutati e quindi il meccanismo del riesame in quanto processo gestito dall'Ateneo e realizzato dai corsi di studio e i meccanismi poi di valutazione di come questi processi autovalutativi e quindi di riesame vengono effettivamente realizzati dai corsi di studio. Ma poi in qualche modo evidentemente valutazione di come l'Ateneo riesce a portare a casa dei risultati attraverso questi processi. A cosa serve l'autovalutazione? Garantire la quantità della formazione, creare contesti di apprendimento efficaci e favorevoli per gli studenti, quindi attenzione, ritorno al tema dell'apprendimento, poi vedremo che nel corso di studio il tema dell'apprendimento evidentemente si lega alla definizione degli obiettivi formativi e a verificare costantemente anche con il concorso degli studenti e quindi riapro nuovamente il tema della valutazione delle opinioni studenti, l'adeguatezza rispetto agli obiettivi stabiliti. Altro elemento, si identificano i soggetti che sono gli attuatori del sistema di assicurazione e delle attività di monitoraggio e valutazione, quindi presidio, nucleo, commissioni paritetiche docenti studenti e le diverse componenti dei corsi di studio, quindi presidente del corso di studio o equivalente a seconda, come diciamo sempre, delle liturgie delle diverse facoltà, commissione di riesame, piuttosto che commissione di gestione e di assicurazione e qualità del corso di studio. Anche qui richiamo a quali sono i documenti, alcuni di questi in questo caso sono documenti ufficialmente presenti sui database di Ambur e Cineca, altri nuovamente saranno materiali che noi abbiamo messo a disposizione. Nell'1A il tema si allarga, anche qui AVA2 definisce in maniera molto più puntuale una serie di elementi, fondamentali, creando adesso vediamo qualche, a mio avviso, problemino. Intanto, quello che si vuole verificare è come l'Ateneo, nel creare il suo sistema di quality assurance, che abbiamo detto fa affidamento sul piano organizzativo a diversi organi, fa riferimento e affidamento a diversi organi, come in qualche modo articoli le responsabilità in termini di attività ai diversi organi, perché nel tempo Ambur ha definito compiti e li ha inseriti nel documento di sistema del gennaio 2013, quali sono i compiti del nucleo di valutazione, quali sono i compiti del team qualità per noi del presidio qualità per gli altri. Nel definire questo ha lasciato delle aree tra virgolette grigie, nel senso ha passato per alcuni versi la responsabilità di gestione delle opinioni studenti ai presidi, ma di fatto per la legislazione vigente la responsabilità sul piano della relazione delle opinioni studenti è rimasta in capo al nucleo di valutazione, perché c'è un'esplicita legge che lo prevede e non può essere il documento di sistema Ambur a modificare evidentemente un dispositivo legislativo. Poi in una seconda battuta, quando ha cominciato a chiedere le audizioni, ha chiesto che le audizioni venissero fatte dai nuclei e su questo ha innescato nuovi meccanismi di confronto tra nuclei e presidi che in alcuni Atenei non hanno generato nessun problema perché l'attività viene svolta di concerto tra nucleo e presidio, in altre realtà ha generato qualche frizione. Ava 2 tenderà a precisare meglio questi aspetti proprio perché gli Atenei stessi stanno chiedendo delucidazioni su come comportarsi rispetto ad alcuni adempimenti. Andiamo anche qui, come abbiamo fatto prima, direttamente sulle schede, così vediamo che cosa viene chiesto. Primo elemento, che è quello sul quale poi tutti gli Atenei, senza che glielo dicesse Ambur evidentemente, sono stati costretti a lavorare, è quella della messa a punto di un sistema di raccolta dati e informazioni. Cioè quando Ambur nel 2013 ci ha chiesto di mettere in atto un riesame ciclico e ci ha chiesto che nel fare il riesame ciclico i dati venissero presentati, organizzati per corti, di fatto ci ha preso in qualche modo in contropiede, per cui vi ricorderete i primi anni vi abbiamo dato dati e informazioni su base annuale, avendo difficoltà a ricondurre l'analisi a un'analisi per corte. Dall'anno scorso siamo riusciti a organizzare il nostro sistema di database in maniera tale che tutti i corsi di studio disponessero di un'analisi per corti con qualche difficoltà evidentemente per quei corsi di studio che avevano subito modifiche nel tempo, pensate a molte volte delle fusioni di corsi di indirizzo e quindi anche lì abbiamo operato in maniera tale per riattribuire i dati a quei corsi di studio che di fatto proseguivano tralasciando quei corsi di studio che erano in esaurimento. Ava 2 lo chiede in maniera esplicita e dice in maniera esplicita a questo punto d'altronde sono passato due anni e il chiederlo adesso in qualche modo non dovrebbe creare particolari problemi agli Atenei. Peraltro la messa a punto di un sistema di enagrafe di ricerca nazionale che dovrà restituire i dati agli Atenei di fatto obbliga gli Atenei a fare questo lavoro se ancorché non l'avessero fatto in maniera molto più forte e strutturata. E questi dati evidentemente devono essere in qualche modo utilizzati dei corsi di studio per fare l'attività di riesame. Poi il documento introduce un elemento ulteriore, il sistema di raccolta e di gestione e trasferimento dati deve avere come organo di riferimento il presidio qualità. Anche qui questa affermazione sta creando qualche problema? Perché evidentemente da un lato sicuramente Ambur si sta preoccupando del fatto che se il presidio è quello che deve fare l'assicurazione qualità, il presidio è anche quello che deve avere in mano il monitoraggio dei risultati di questa assicurazione qualità e quindi dell'andamento delle carriere degli studenti. Dall'altro lato però così facendo quindi dal punto di vista è logico fare un'affermazione di questo genere. Dal punto di vista dell'organizzazione degli Atenei è un po' meno logico nel senso che così come Ambur ha detto la struttura del presidio non la governo io, quindi non do io le regole, è l'Ateneo che stabilisce come costruirlo, con quali modalità, con quale dimensione, purché sia coerente con le caratteristiche dell'Ateneo dimensionali e quindi sia adeguato al compito che deve svolgere nell'Ateneo, qualcuno sta leggendo in questa attribuzione della sorveglianza in qualche modo e dell'eggida sul sistema di gestione dei dati come un qualche cosa che tende a interferire, tra virgolette, con la libera scelta dell'Ateneo di stabilire il modello organizzativo che ritiene più opportuno. Altro elemento, questo evidentemente potrebbe nuovamente creare qualche problema perché chi sono gli utenti dei dati? Sì, sicuramente il presidio per la parte di realizzazione della quality assurance, ma sicuramente il nucleo per tutto ciò che è valutazione, ma attenzione soprattutto le governance di Ateneo perché sulla base dati devono definire la loro pianificazione e soprattutto quella strategica. Quindi attribuire ai presidi un'unicità in qualche univocità di governo sembrerebbe essere un attimo azzardata. Anche qui abbiamo fatto delle osservazioni. L'Ateneo assicura la collaborazione e un'adeguata circolazione dei dati e delle informazioni tra le strutture responsabili. Quindi è l'Ateneo che deve dirigere il traffico, le responsabilità, perché evidentemente si rende conto che un presidio, un nucleo, le commissioni paritetica e poi comunque tutti gli organi di governance chiaramente possono rappresentare un qualche cosa che alla quality assurance potrebbe non far bene in termini di chiarezza, tra virgolette, di responsabilità. E poi le strutture responsabili della Q interagiscono efficacemente tra loro e con gli organi accademici preposti alla didattica? Anche qui l'anno scorso, anzi no, all'inizio di quest'anno, quando abbiamo riaggiornato la composizione del team, non a caso abbiamo chiesto al presidente della commissione didattica di entrare nel team proprio per avere, assieme al dirigente dell'Arof, avere all'interno del team le persone che poi sostanzialmente governano di fatto la didattica. R2B, scendiamo di scala, ci preoccupiamo dei corsi di studio e anche qui vediamo cosa prevede l'Ateneo per i corsi di studio. Anche qui l'Ateneo garantisce che l'autovalutazione, ovvero il riesame ciclico, attenzione, con il passaggio d'Ava 1 a d'Ava 2, abbiamo detto, Anvur ha deciso di declassare in qualche modo il riesame annuale a una rilettura dei dati e la decisione di realizzare interventi correttivi laddove la lettura dei dati segnalasse problematiche, ma con un processo sostanzialmente volutamente più snello, proprio in chiave di semplificazione. È chiaro che quindi l'elemento centrale in chiave di riesame diventa esclusivamente sostanzialmente il riesame ciclico. Su questo come presidi qualità abbiamo fatto, come vi accennavo nei primi giorni d'incontro, sicuramente abbiamo fatto osservazioni perché questo rilassamento in qualche modo del vincolo sul riesame annuale rischia, tra virgolette, intanto di dare un segnale poco coerente con i segnali dati sino all'anno scorso. Dall'altro lato rischia, in termini sostanziali, di far calare l'attenzione rispetto alle cose che non funzionano. Perché se io guardo i dati e mi muovo se i dati sono in peggioramento, sì, certamente i dati in peggioramento dovrebbero generare le azioni più importanti e più significative per riprendere il controllo di un corso che sta andando alla deriva. Dall'altro lato però non è che se i numeri vanno bene vuol dire che il corso di studio non ha problemi. Non ha problemi con riferimento all'andamento per esempio delle carriere, ma può benissimo avere una serie di altri problemi che andrebbero comunque prontamente rilevati e il rapporto di riesame annuale aveva proprio l'obiettivo di rilevare prontamente una serie di problematiche. Questo è il passaggio tra la politica di Ateneo al sistema di Ateneo. Qui l'interrogato è ancora il sistema di Ateneo, quindi qui l'interrogato sarà sostanzialmente il presidio qualità, che deve sapere quello che succede nei corsi di studio, quindi riguardano tutti i corsi di studio e che consapevolezza l'Ateneo ha di quello che succede in periferia. Questo vuol dire problema grosso ovviamente per i nostri Atenei che sono di dimensioni rilevanti e che quindi ti danno non pochi problemi per avere proprio questo polso della situazione. Attenzione, dei CDS e dei dipartimenti si è organizzata in modo da consentire l'approfondimento dei problemi. Qui con questa frase scritta così, io come presidio devo anche garantire che il modo con il quale i dipartimenti fanno la scheda su RD sia adeguato per avere il quadro della situazione anche dipartimentale messo in questi termini. Oppure, cosa da capire, se questo riguarda solo la parte didattica, quindi i dipartimenti nella quota parte della loro attività didattica non è così chiara dalla formulazione. Attenzione, altra frase pericolosa, senza che i CDS debbano sostenere un carico eccessivo di adempimenti. Cioè, Anvur si rende conto che nella passata edizione di Ava, i corsi di studio sono stati sufficientemente pressati in termini di adempimenti. Allora, in qualche modo, si mette la mano sulla coscienza e dice, tu presidio, lavora in un certo modo, garantisci che venga fatto il riesame, però preoccupati del non infierire troppo, tra virgolette, sui corsi di studio. Messa così, sembrerebbe quasi che i presidi si siano divertiti in una sorta di accanimento terapeutico sui corsi di studio, non interpretando quello che Anvur chiedeva, ma in qualche modo dando libero sfogo al narcisismo della qualità dei presidi. E quindi anche qui abbiamo detto che vuol dire, cioè, di fatto gli adempimenti non sono quelli che definisce il presidio, ma di fatto sono quelli che trasferisce recependoli da Ava. Nessuno chiede sostanzialmente di più di quello che viene chiesto. L'Ateneo garantisce che i CDS conseguano gli obiettivi stabiliti, anche qui chiaramente levata di scudi, perché l'Ateneo come fa a garantire che i corsi di studio raggiungano gli obiettivi stabiliti. E questo è uno dei problemi in essere adesso, per esempio, nella valutazione delle prestazioni dei direttori di dipartimento. Sapete che c'è un piano performance, il piano performance stabilisce gli obiettivi per la componente amministrativa, ma li stabilisce anche per i presidi e per i direttori. Una parte degli obiettivi di presidi e direttori sono garantiti in chiave di raggiungimento da parte dei presidenti di corso di studio, che peraltro ai fini della performance di fatto non sono valutati. Ma loro determinano il raggiungimento di presidi e direttori, senza che peraltro presidi e direttori, tra virgolette, abbiano qualche forma di ruolo. Mentre il preside e il direttore può perdere una parte del suo emolumento, della sua indennità di posizione, di ruolo, i presidenti di CDS non hanno nulla, quindi, tra virgolette, che gli fai se non raggiungono l'obiettivo? Dire che l'Ateneo debba garantire il conseguimento degli obiettivi è ovviamente pesante, quindi anche questo è stato fatto notare all'Ambor. E rispondono alle esigenze degli studenti e della società. Insomma, qui, questo punto è impegnativo, ma è impegnativo, attenzione, anche per essere valutato. Cioè, come fai a valutare una cosa del genere? Il nucleo di valutazione verifica costantemente, quindi attenzione, cambio al soggetto, anche mediante audizioni, esame a campione o a rotazione, anche qui Anvor evita di usare il termine audit, o audit come sarebbe più corretto dire, visto che è il latino, l'andamento dei CDS, lo stato del sistema di AQ e dei documenti di riesame. Attenzione, qui sotto c'è scritto un altro pezzo di storia, anche qui da definire. Sino a oggi il controllo delle attività di riesame le ha sempre fatte il team qualità, e il team qualità, che riceveva i rapporti di riesame, li guardava, laddove i rapporti di riesame mostrassero delle debolezze, o peggio ancora, tra virgolette, dei rischi, mandava un segnale ai corsi di studio. Ah, beh, momento. Prima storia. No, no, prima storia. Prima storia. Seconda storia, passaggio successivo, l'anno scorso, abbiamo chiesto di cominciare a fare questo lavoro ai comitati di monitoraggio in maniera stretta. Sì, ma dall'anno scorso proprio in maniera più decisa. Perché ritenevamo che il monitoraggio, il controllo di questo processo dovesse essere del team. E di fatto questo diceva AVA1. AVA2 sta cominciando a dire un'altra cosa, che il monitoraggio di questo processo è del nucleo. È un'emanazione, però a questo punto quello che dovremo capire è vincolante quello che è strascritto qui, o l'Ateneo in qualche modo è libero di stabilire un modello organizzativo che pur seguendo questo schema logico dice che, per esempio, continua a farlo il presidio, ovvero il team. Perché se questo è formalmente fattibile, l'Ateneo è libero di organizzarsi. Se diventa un requisito e quindi tu non puoi sostituire il soggetto di quella frase, domani ti puoi ritrovare che nel momento in cui sei in visita, se il processo non è governato dal nucleo, l'Ateneo può avere un problema. E quindi chiaramente potremmo, tra virgolette, dover cambiare pezzetti di responsabilità. Attenzione, questo significa un altro aspetto non banale, attenzione, per gli Atenei. Laddove questo si dovesse verificare, o in qualche modo il modello che tu stabilisci è un modello che più o meno è abbastanza vicino a quello che abbiamo cercato di realizzare, cioè di fare in modo che questa operazione possa essere gestita da un lato dall'amministrazione centrale, quindi dal gruppo di supporto al team qualità, che di fatto è fatto da persone che fanno parte dell'ufficio che fa il supporto anche al nucleo di valutazione e dai comitati di monitoraggio che sono sulla facoltà. Nella composizione di team e di nucleo di valutazione, quello che si è cercato di fare è di avere competenze dei membri dell'uno e dell'altro che fossero più orientate a compiti leggermente differenziati. Anzi, all'inizio noi avevamo un team qualità che al suo interno aveva addirittura dei membri del nucleo, cioè prima che uscisse il documento AVA, Cristiano Vilani, che era il presidente del nucleo di valutazione, era anche dentro al team qualità perché si lavorava assieme, non avevamo vincoli legislativi e quindi si lavorava sostanzialmente a braccetto. Quando è uscito il documento di sistema, di fatto Anvur stesso ha dato un'indicazione di questo tipo. Nell'emore della creazione di competenze dei presidi, trasferite eventuali competenze che avete nei nuclei dentro ai presidi per continuare il lavoro avviato magari dai nuclei. Il rischio è che oggi si debba fare l'operazione inversa, cioè se si riattribuiscono certe competenze dai presidi ai nuclei, le composizioni dei nuclei dovranno essere riviste per fare in modo che una parte di competenze maturate sui presidi si ritrasferiscono nel nucleo se si vuole che il nucleo possa sviluppare certe attività. E comunque il modello Sapienza ha sempre avuto il problema di scarsa chiarezza del Comitato del Comitato che continua a portarsi dietro e che va a peggiorare perché se questo insiste... Sapienza ha una cosa che gli altri non hanno e quindi chiaramente... Allora, Sapienza ha la tradizione dei nuclei di valutazione. I nuclei di valutazione hanno funzionato serenamente fin tanto che avevano un unico interlocutore. All'inizio, vi ricordate, avevamo anche pensato di avere un nucleo di valutazione di facoltà, cioè con la vecchia impostazione del modello pre-Gelmini, avevamo addirittura pensato, sicuramente sbagliando sul piano, o meglio, non sbagliando sul piano della purezza del modello organizzativo, ma sbagliando sul piano della pesantezza. C'è stata una fase in cui avevamo sia un team qualità di facoltà, non so se qualcuno se lo ricorda, sia per un anno, ci abbiamo provato, sia il comitato di monitoraggio, proprio perché uno fosse l'emanazione del team qualità e l'altro l'emanazione del nucleo, in maniera tale che non ci fossero confusioni. Cosa è successo che ci ha completamente richiesto di rivedere il modello? Il fatto che all'epoca non si parlava di commissioni paritetiche. L'altro problema è derivato dal fatto che alle commissioni paritetiche è stato affidato un ruolo di fatto da valutatore. Allora è chiaro che in questa logica noi ci siamo ritrovati con un comitato di monitoraggio che ha sommato le vecchie competenze di nucleo di valutazione e di team qualità di facoltà, ma con l'aggiunta di una commissione paritetica che di fatto fa le stesse funzioni di un nucleo di valutazione di facoltà. Non dico che non sia stato complesso nell'evoluzione, dico che ancora non c'è chiarezza. No, no, ma non ci sarà chiarezza fin tanto che non ci verrà detto ancora con più chiarezza cosa deve fare effettivamente la commissione paritetica, perché da lì che è l'unico, attenzione, è l'unico organo definito per legge. Quindi fin tanto che non c'è chiarezza lì, non puoi fare altro che in qualche modo cercare di seguire perché devi comunque tenere quel punto fermo. Quindi sicuramente anche qui dovremmo fare qualche riflessione in funzione di quello che poi uscirà fuori in maniera definitiva. L'Ateneo garantisce che gli studenti siano coinvolti nella valutazione dei CDS e qui che cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo dalle visite spesso e volentieri emerge abbastanza chiaramente che gli studenti ci sono ma non si trovano, oppure non ci sono per niente, oppure ci sono, si trovano, però agli studenti non vengono dati tutti gli elementi per lavorare adeguatamente nelle commissioni paritetiche. Quindi tante commissioni paritetiche non hanno per esempio le valutazioni delle opinioni studenti. Quindi siamo andati in valutazione in diversi Atenei e abbiamo trovato che la commissione paritetica riceveva il materiale, ma il materiale lo poteva vedere solo la componente docente, non la componente studentesca. Allora, nuova versione viene detto in maniera più esplicita. Le strutture responsabili della Q analizzano sistematicamente i problemi rilevati nei rapporti di riesame dei CDS, nelle relazioni della CPDS e altre fonti. Anche qui cosa vuol dire? Vuol dire che il presidio, il nucleo, fanno un riesame complessivo dei rapporti di riesame. Però, attenzione, questo sembrerebbe dire che al nucleo di valutazione compete un'attività più a 360 gradi di livello alto. Le strutture responsabili della Q di fatto è il presidio. Anche qui non si capisce perché non ci metta, tra virgolette, un soggetto che dovrebbe essere il presidio. Quindi toccherebbe al presidio andare a guardare i rapporti di riesame. Però è anche vero che questo ci sta bene nel momento in cui il nostro modello organizzativo dice che questa attività lo fa il presidio d'accordo con i comitati di monitoraggio. Attenzione, propongono azioni di migliorative, no, attenzione, anche qui poi va letto interpretato. No, attenzione, attenzione, leggiamo bene. La frase è legata alle strutture responsabili della Q. Bene, qui non si parla delle azioni di miglioramento dei corsi di studio. Attenzione, qui si parla delle azioni di miglioramento del sistema complessivo di AQ. Quello è il compito del presidio, cioè io monitoro il funzionamento del processo di riesame. Se mi accorgo che le istruzioni che do ai corsi di studio sono lacunose, motivo per il quale i corsi di studio non capiscono, per esempio, come devono organizzare i comitati di indirizzo, è compito del presidio prendere atto del fatto che se io ho mandato una circolare, faccio l'esempio proprio dei comitati di indirizzo, e poi andando a fare le verifiche dei rapporti di riesame, o peggio ancora, audizioni o audit sui corsi di studio, e vedo che la gestione dei comitati di indirizzo non funziona? Allora, se è uno che non funziona, quello è un problema del corso di studio, ma se su 280 corsi non me ne funzionano 200, vuol dire che sono io che non ho dato indicazioni adeguate e quindi sono io che faccio un riesame del mio modello di ACU e cambio la linea guida per quello, piuttosto che per le azioni correttive, piuttosto che per la gestione delle opinioni studenti. Quindi qui lo dovete vedere come un riesame complessivo del modello di ACU e non come riesame se io nel fare, e questo è un problema che abbiamo, è inutile negarlo, il motivo per il quale devo avvicinare il riesame dei riesami alle facoltà, deriva dal fatto che se io leggo i riesami a livello di team e per leggerne 280 dovrei avere a livello centrale una task force di persone in grado di leggerne 280, allora o questa task force è fatta da docenti e allora i docenti sono in grado di entrare nel dettaglio di quello che succede in termini di progettazione e erogazione di un corso, ma se lo faccio come abbiamo fatto nei primi anni, l'abbiamo fatti leggere dal gruppo di supporto, cioè personale tecnico amministrativo, per quanto perfettamente formato sul modello di quality assurance, personale tecnico amministrativo può entrare sul modello organizzativo, ma non può entrare sul contenuto del riesame, allora da questo punto di vista devo necessariamente avvicinare gli esami dove ho le competenze scientifico didattiche per poterlo fare e una massa critica di persone più ampia per poter fare per una facoltà un riesame di 40, cioè una valutazione di riesami annuale e ciclo di 40 corsi di studio che vuol dire 80 documenti da guardare, peraltro vi ricordo in un lasso di tempo piuttosto ristretto, quindi inevitabilmente o l'Ateneo mi dà tante risorse umane o mi fa fare un team qualità enorme oppure il team qualità è necessariamente piccolo, si fa per dire perché 14 persone non è piccolo ne verificano adeguatamente l'efficacia, ovviamente segue la stessa logica R3 e adesso entriamo in quello che ci interessa e quindi adesso cominciamo a concentrarci sugli aspetti. Quattro indicatori per il requisito R3. R3A definisce i profili culturali e professionali della figura che intende formare e propone attività formative con esse coerenti. R3B promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utilizzo di metodologie aggiornate flessibili di insegnamento e accertamento delle competenze acquisite. R3C dispone di un'adeguata dotazione di personale docente, è già qui, e tecnico amministrativo, è già qui, magari potessimo disporre di personale tecnico amministrativo per ogni corso di studio. Offre servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche. R3D è in grado di riconoscere gli aspetti critici, quindi adesso stiamo cambiando di scala, in questo caso il corso di studio che deve riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e definire e attuare interventi conseguenti. Vi ricordo, per chi se lo ricorda, che nel vecchio AQ5, a fronte del requisito AQ5 c'erano quanti indicatori? chi so, ricorda? Eh, no, 5. L'ultimo che manca era quello che anche qui in sede di valutazione creavano un pochi problemi e soprattutto avendogli dato uno status in qualche modo indipendente rispetto agli altri quattro, lo era ancora in maniera più significativa perché chiedeva di andare a vedere l'esito, quindi placement e di andare a rivedere gli esiti, gli sbocchi occupazionali anche con il contributo delle aziende, degli enti e delle organizzazioni con le quali si era collaborato in chiave di progettazione dell'offerta formativa, che dal punto di vista logico è perfettamente coerente, ma che dandogli una veste totalmente autonoma in una fase di avvio di un sistema di questo tipo, chiaramente anche qui portava valutazioni che sul campo portavano sempre a C o a D, perché di fatto gli Atenei sì, forse facevano qualcosa, ma non avevano di fatto un approccio sistematico rispetto a questo aspetto. Quindi con l'R3 c'è lo stacco, si passa dal lavoro di amministrazione centrale al lavoro periferico a livello di corso di studio. e quindi si va a vedere quello che effettivamente i corsi di studio fanno per effetto degli input che ricevono dal centro. Ovviamente questo consente di usare questa valutazione come cartina al tornasole rispetto a capire se quello che l'Ateneo ha dichiarato di fare poi effettivamente si traduce in operatività, quindi di fatto è una verifica indiretta del modo di operare dell'amministrazione centrale. Altro elemento è l'attenzione agli studenti, quindi vi ricordo che l'attenzione e la centralità degli studenti è l'elemento determinante dell'SG europea, quindi con questi aspetti si tende a ribadire quanto esplicitamente richiesto dall'SG europea. Ovviamente la parte di risorse è un elemento fondamentale e quindi i CDS devono verificare che la dotazione sia effettivamente adeguata a quello che loro devono realizzare. I CDS devono inoltre garantire in sinergia con gli attori centrali della CUR un'attività interna di autovalutazione in grado di rilevare gli insorgere di eventuali problemi eccetera eccetera. Anche in chiave di condivisione con gli studenti e quindi nuovamente quello che si va a vedere è poi la partecipazione degli studenti negli organi di governo del corso di studio, quindi per esempio del consiglio di dipartimento, nel gruppo di riesame a livello, scusate ho parlato di dipartimento di corso di studio, partecipazione dello studente alla commissione di riesame esplicitamente richiesta nuovamente dall'ESG e quindi inserita formalmente nello schema di riesame. E poi azioni, anche qui documentazioni e fonti di riferimento. scusate, nel mettervi le fonti di riferimento a differenza di quanto fatto con i primi due requisiti ho inserito fonti di riferimento anche della struttura di coordinamento perché questo è un altro dei problemi che in sede di valutazione emerge abbastanza chiaramente. Molti dei problemi rilevati a livello di corso di studio sono problemi non gestibili dal corso di studio, proprio per esempio in termini di dotazioni e qui vengono alpetti nei nodi fondamentali che riguardano aule e personale tecnico e amministrativo. Il corso di studio, salvo qualche raro caso, non ha delle aule assegnate. Il corso di studio, per quanto possa, magari con la dotazione di risorse finanziarie limitate che gli vengono assegnate dalla facoltà, perché nella realtà, almeno nella realtà della mia facoltà, la facoltà dei corsi per la didattica, la facoltà destina, ripartisce questi fondi per la didattica in maniera proporzionale alla consistenza del corso di studio, al corso di studio e nella mia facoltà il presidente del corso di studio ha la disponibilità di qualche migliaio di euro, pochi in genere, per fare azioni specifiche per il corso di studio. Quindi se per esempio un'aula, che è quella normalmente assegnata, avesse una dotazione infrastrutturale, legge il proiettore, che non funziona, prima ancora di andare al direttore del dipartimento o al preside, uno potrebbe, comunque come presidente di corso di studio, ci penso io. Non è detto che questo avvenga. Cosa vuol dire? Non è detto che un corso di studio abbia una dotazione, perché magari dipende anche, in sapienza sicuramente c'è un modello che non è esattamente lo stesso in tutte le facoltà. Quindi posso immaginare che magari in alcune facoltà il corso di studio non abbia questa autonomia. È chiaro che non è un centro di spesa, ma utilizzando ovviamente i fondi appoggiati presso il centro di spesa della facoltà o del dipartimento può intervenire direttamente. In altri Atenei questo non succede assolutamente. Allora è chiaro che molte problematiche, anche le più banali, immediatamente devono passare per competenza al direttore di dipartimento piuttosto che al coordinatore, se c'è un coordinamento didattico, tra virgolette. E quindi da questo punto di vista nel discorso della documentazione ho inserito anche dei livelli in cui, proprio perché nelle visite che abbiamo fatto c'è stata l'opportunità di osservarlo, alcuni Atenei hanno fatto vedere come una serie di problematiche che, e questo è un fatto positivo, che emergevano a livello di singolo corso di studio, di fatto era stata data indicazione di trasmetterle alla facoltà o alla struttura di coordinamento barra scuola a seconda di come uno la chiama nel proprio Ateneo, dove a quel livello quelle problematiche generavano azioni correttive che erano gestite dalla facoltà e non dal corso di studio. E questo vuol dire ovviamente che anche a casa nostra sarà opportuno in qualche modo stimolare questa prassi di fare in modo che certe azioni siano visibilmente prese in carico dalla facoltà e quindi segnale per i manager didattici in particolare che hanno all'interno, qui dentro questo ruolo, in qualche modo di definire dei meccanismi e su questo ovviamente poi ci potremo confrontare, perché alcune situazioni che non sono sotto il controllo del corso di studio vengano prese formalmente in carico dalla facoltà e formalmente gestite. E quindi il parlare di questi documenti a livello di facoltà evidentemente ha la sua importanza e quindi... Essendo documenti distintivi almeno di due, diciamo l'area didattica, chi può produrli, vuol dire certificarli qualcuno, cioè devono passare attraverso un consiglio, devono essere... Allora come sempre sarebbe bene che... Allora intanto i problemi dove li rilevo? A livello di corso di studio. Rilevati a livello di corso di studio se li metto o in un verbale di consiglio di corso di studio o in un verbale di commissione di riesame piuttosto che e li trasmetto perché magari siamo riusciti a costruire questo meccanismo, li trasmetto per esempio al manager didattico che ne fa un'istruttoria e li porta a chi? Per esempio al comitato di monitoraggio per avere un lavoro di regia? Sicuramente questi passaggi sono tutti passaggi dove non è necessario di avere un documento... Allora, nessun valutatore vi verrà mai a chiedere un documento protocollato. cosa vuole vedere? Se c'è un meccanismo che trasferisce i problemi al livello al quale i problemi possono essere affrontati... Esattamente. È chiaro che questo più è ben strutturato e più è formalizzato più dà evidenza di una maturazione del sistema. L'importante è che come al solito non succeda che siccome non è compito del corso di studio, siccome la facoltà non ne ha preso atto, poi di fatto tu continui a mantenere negli anni quella problematica. Questo è quello che non vorresti trovare. Quindi, invece, a livello di corso di studio che cosa ci chiediamo? Beh, documenti descrittivi dell'organizzazione del corso di studio. Anche qui vorrei sapere come il corso di studio è organizzato. Quindi, c'è una commissione didattica? C'è una commissione aule? C'è una commissione piani di studio? C'è una commissione di riesame? Da chi sono composte? Questo deve essere scritto, direi, da qualche parte. E dove? Non mi importa. Cioè, il corso di studio ha stabilito una procedura? Bah! Il corso di studio lo ha messo in un verbale del consiglio? Il corso di studio l'ha scritto sul sito? E quello è un documento pubblico? Qualunque di queste cose va bene, purché effettivamente poi corrisponda col reale funzionamento del corso di studio. Quindi vale quello che vi ho detto l'altro giorno. Se io ho fatto un bel manuale della qualità, con una bellissima procedura organizzativa, poi non la conosce nessuno e tantomeno qualcuno la applica, meglio, cioè non ha senso averla. È solo un esercizio di stile. Documenti descrittivi dei processi di assicurazione e qualità del corso di studio? Ci potrebbero essere. Cioè, qualcuno ha regolamentato il modo con il quale la commissione di riesame deve lavorare. Qualcuno può aver stabilito che ha una commissione di riesame e una commissione di gestione della qualità. Su 280 corsi di studio, i modelli organizzativi... Ci possono essere, sì, ma... Benissimo. Infatti, scusami, ma infatti nessuno li chiede. Scusami, questo non è prescrittivo. Ci possono essere. Io devo prendere in considerazione che ci possano essere. Beh, però le commissione di riesame, però, sono caricate sulle schede sulle schede sulle... Certo. Quindi quelle sono... Scusate, scheda sua annuale del CDS. Quello è il Vangelo. Allora, in sede di valutazione, due sono i Vangeli. Scheda sua e rapporto di riesame. Il valutatore parte da lì. Quello deve trovare e lì dentro cerca risposte. Siccome là dentro non trovi tutte le risposte, è gradito qualsiasi documento aggiuntivo, scritto come ritiene più opportuno il corso di studio, che mi faccia capire quelle cose che dal rapporto di riesame non ho. O dalla scheda sua non ho. Se dentro la scheda sua il corso di studio, perché, attenzione, c'è prevista una parte della scheda sua nella quale stabilisco il modello di organizzazione per l'assicurazione e qualità del corso di studio. Il corso di studio me la descrive là dentro? Va benissimo. Qual è il problema della scheda sua, Lia? Che la scheda sua è... Che per esempio non la conoscono tutti i docenti. Prima non la conoscono tutti i docenti. Questo non ricordo esattamente cosa è stato messo dentro. Anche perché molte volte l'hai scritto dieci anni prima, alcune parti. Sì, poi alcune cose vengono di cambiare, per cui in realtà deve essere una scheda unica, sembra un ufo per molti. Esatto. Ma attenzione, la scheda unica... Allora, uno dei problemi... Scusate, lì ha parlato di ufo in maniera molto appropriata, ma l'ufo deriva dal fatto che è il Ministero e l'Ambur che hanno caricato questo ufo di tanti significati. Nel senso, la scheda sua diventa da un lato documento di progettazione, da un altro lato documento di monitoraggio, da un terzo lato strumento di comunicazione, perché parti della scheda sua vanno su Universitaly. Allora, aver caricato di tanti e troppi significati la scheda sua, poi la rende uno strumento molto pesante e molto rigido. aggiungo un terzo problema a quello che diceva Lia, che è quello del fatto che la scheda sua è un documento bloccato. Per cui, se io metto dentro la scheda sua delle cose, poi quelle, in teoria, le posso cambiare solo l'anno dopo quando cambio la scheda sua. Allora, certi aspetti che sono di organizzazione, a mio avviso, tranne quelli esplicitamente richiesti, a mio avviso è molto meglio metterli in un documento a lato, a latere, nel quale io poi posso intervenire quando serve. Se devo cambiare modello organizzativo, perché mi accorgo che non funziona? Non è che devo aspettare un anno, perché sennò poi sono bloccato dalla scheda sua. Quindi, anche qui, ci sono diversi modi per redigere la scheda sua. Rapporti di riesame, e qui, invece, sì, assolutamente sì, verbali degli incontri con le parti interessate. E qui, tra l'altro, stiamo lavorando per dare proprio delle indicazioni molto stringenti su come redigere questi verbali, perché se il verbale è fatto di quattro righe e mi dice, ci siamo incontrati, eravamo questi, abbiamo parlato di questo o di quell'altro, ma di fatto dal verbale non si evince mai che sei entrato negli aspetti progettuali del corso di studio, di fatto, sì, stai meglio di un corso di studio che non ha neanche il verbale, ma di fatto non mi stai raccontando nulla che testimoni a quello che Ambor chiede per il lavoro con le parti interessate. Verbali di consiglio di corso di studio con discussioni, e anche qui, nuovamente, ci fa fatica scrivere i verbali, ci hanno giustamente insegnato che il verbale sostanzialmente è fondamentale per le decisioni che devono essere formalizzate, tutta la parte di discussione si tende a compattarla e a sintetizzarla. Ci sono alcune scuole di pensiero, e su questo almeno che non arrivino indicazioni precise da Ambor, alcune scuole di pensiero di una parte dei valutatori che se non leggono dentro ai verbali un certo quantitativo di informazione, in particolare per esempio sulla discussione e approvazione del riesame, automaticamente deducono che il riesame è poco condiviso, poco partecipato, e di fatto, e badate che poi basta fare alcune domande a chiedere, non alla commissione di riesame, nel momento d'incontro con gli altri docenti, è banalissimo, gli chiedi, ma tu il rapporto di riesame l'hai visto? State tranquilli che il collega dirà, sì, forse può darsi, me l'ha inviato il presidente del corso di... Sì, sono tre mesi per prepararmi. Scusami Cecilia, tu i colleghi li conosci, puoi anche prepararli per tre mesi, ti garantisco, o quei corsi di studio che ho esaminato, i colleghi non li avevano preparati bene, o loro erano particolarmente resistenti, però il collega che a un certo punto ti dice, ma sì, può darsi, me l'ha inviato la sera prima, ma manco ho fatto un tempo a leggerlo, qualcuno che ti dice, era assolutamente illeggibile, l'abbiamo approvato sulla fiducia, è un classico, dopodiché, basta fare due o tre domande di queste, lo stesso lo chiedi agli studenti, poi... Ma è prevista una riunione con tutto il CPS intero? No, sono previste riunioni frammentate, ovvero... Tu hai una prima riunione che è col presidente del corso di studio e la commissione di riesame, poi vedi, ed è il primo pezzo di intervista la mattina, poi esci e vai a intervistare gli studenti, poi fai un incontro con gli altri docenti del corso di studio, senza il presidente... Un certo numero di docenti, non è che obblighi ad avere tutti, però vuoi persone diverse dal gruppo di riesame, quindi vuoi vedere quanto loro partecipano della vita del corso di studio sul piano quality assurance. Dopo, quando hai finito tutte queste cose, rincontri nuovamente presidente e gruppo di riesame, utilizzando al meglio tutte le informazioni che hai acquisito parlando con i docenti, con gli studenti e con gli altri docenti. E quindi a quel punto gli riversi addosso tutte le domande. Commissione paritetica e parte interessata. Le parti interessate chiudono il tutto. La sera. Commissione paritetica, quella che hai però intervistata con riferimento a quel corso di studio. Chiaramente se hai una commissione paritetica di facoltà e fai un certo numero di corsi di studio di quella facoltà, a quel punto non ne puoi più perché per tre giorni di seguito incontri sempre le stesse persone. Però diciamo la scaletta è sostanzialmente questa. L'oggetto però è il corso di studio. Quindi qui vi ho ricordato quali sono temi che potrebbero essere presenti all'interno della verbalizzazione del consiglio. E quindi nuovamente in sede di preparazione della visita sarebbe opportuno che il corso di studio quando sa di aver discusso di certe cose se le mette da parte e se le organizza per un'interlocuzione senza bisogno di dover andare a cercare pezze di carta. Tenete anche presente un'altra cosa che buona norma per un valutatore è quando un corso di studio tipicamente ti risponde ah ma questa cosa ce l'ho nel verbale a quel punto gli dici bene mi fai vedere il verbale e gli dai anche un tempo per fartelo vedere quindi gli dici me lo porti entro una mezz'oretta quarto d'ora cioè non gli dici me lo fai avere prima che me ne vado dopo tre o quattro ore perché dai per scontato che i più furbi se lo vanno a scrivere. no no quindi fa bella figura al corso di studio che un attimo te lo faccio vedere anche perché hai un modello organizzativo. Allora andiamo a vedere quello che c'è scritto nei diversi aspetti allora primo di tutto il corso di studio deve esplicitare gli obiettivi dell'offerta formativa richiamandoli anche grazie al confronto con le parti interessate garantisce che vi sia coerenza tra i profili e gli insegnamenti e le attività complementari allora attenzione questo è barra dovrebbe essere nel rad allora l'analisi del rad viene fatta proprio in una logica di coerenza allora tutta la parte sicuramente la parte di valutazione del corso di studio è quella sulla quale si presta la maggiore attenzione possibile proprio ai meccanismi di coerenza hai fatto un'analisi dei bisogni formativi guardando le parti interessate esaminando studi di settore da lì ti vengono fuori delle conoscenze richieste per quelle figure professionali quelle le devi descrivere in maniera adeguata come lo fai con i descrittori di Dublino associ ai descrittori di Dublino gli insegnamenti e fai vedere come gli insegnamenti trasferiscono esattamente quelle conoscenze che tu hai censito e fai vedere come i vari metodi didattici che tu usi all'interno dei vari insegnamenti piuttosto che nei laboratori piuttosto che nelle altre attività formative trasferiscano per esempio le competenze trasversali cioè se tu tra gli obiettivi formativi hai dichiarato che vuoi formare persone capace di prendere decisioni autonome di fare un lavoro di gruppo di usare certi tipi di strumenti poi devi far vedere come i diversi insegnamenti sono in grado di se io vado a vedere che in tutti gli insegnamenti non c'è mai un'attività di gruppo progettuale da parte degli strumenti o se tu hai detto che vuoi trasferire l'uso degli strumenti informatici e poi nessun insegnamento fa questo tu non fai laboratori di questo tipo oppure magari mi hai fatto un corso di studio che si chiama informatica giuridica e poi fanno tre cfu di informatica o sei al massimo è chiaro che non c'è coerenza e corrispondenza tra il titolo del corso di studio quindi proprio la descrizione del titolo obiettivi formativi e insegnamenti su questo lo dico perché personalmente l'ho fatto di fatto praticamente al corso di studio non siamo arrivati al punto di non dargli l'accreditamento ma gli abbiamo dato una richiesta pesante di riprogettazione totale del progetto formativo perché di fatto quello che tu dichiaravi era un millantato credito cioè tu gli dicevi allo studente che lo studente andava lì per imparare certe cose in una certa facoltà e poi di fatto ne faceva completamente un'altra queste cose ci sono cioè se uno volesse andare veramente quelli sono corsi ai quali tu dovresti ritirare l'accreditamento quindi attenzione perché in sede di valutazione queste cose si vanno a guardare e attenzione l'ho fatto io questo in presenza di valutatori disciplinari che pur essendo competenti della disciplina quindi cioè è un qualche cosa che riesci a vedere anche se non sei un disciplinare perché tu a un certo punto se conosci il sistema universitario certe dinamiche le capisci quindi attenzione perché tendenzialmente l'obiettivo è di andare a guardare questi che poi sono gli elementi cioè non è tanto andare a vedere il verbalino o il pezzo di carta il vero obiettivo è capire se quello che tu stai prospettando in termini di offerta formativa non è fuorviante rispetto a chi deve fare una scelta che poi lo coinvolge per un progetto di 3 più 2 anni però purtroppo i votini li devi mettere singoli aspetti i votini li devi mettere singoli aspetti però voglio dire poi hai degli elementi che ti permettono di ribadisco il problema più critico sulla valutazione anche in AVA 1.0 non era tanto sui corsi di studio era prevalentemente sul sistema il corso di studio ha avuto dei cambiamenti come modello ma sono molto poco significativi rispetto a quelli dell'Ateneo perché chiaramente su questo c'è storia e quindi è chiaro no? allora il CDS definisce con chiarezza la figura in uscita dichiarando le conoscenze le competenze e quasi alzi alzare il tremento utile a caratterizzare i profili culturali e professionali a ciascun profilo culturale e professionale deve ricorrispondere l'indicazione di prospettive occupazionali che tengano conto in modo realistico dei destini lavorativi dei laureati e della loro prosecuzione degli studi è chiaro che questo è una dichiarazione di coerenza e trasparenza se io dico che formo cinque profili professionali poi devo trovare insegnamenti che siano coerenti con quei cinque profili professionali e con gli obiettivi formativi ovviamente la laurea in filosofia è una laurea che può essere validissima ma che magari non ha esplicitabili in maniera condizia le processi singole e l'ospettiva occupazionale lo dicono ignoranti della laurea in filosofia direi di no anche perché la laurea in filosofia ti potrei dire che ha talmente diciamo sviluppate certe capacità logiche che è difficile molte volte individuare un ben preciso però si ma tu non è che non ti forma però che io dopo devo dire esce con questa specifica no 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 ma attenzione le affermazioni sono general purpose cosa vuol dire sono generalizzate valgono per la laurea valgono per la magistrale che cosa voglio trovare voglio trovare delle coerenze ti faccio gli esempi negativi mi è capitato di vedere lauree triennali dove in uscita c'erano 10 o 12 profili professionali su una laurea triennale con 20 insegnamenti non è credibile e non è credibile che tu mi dica che quello esce fuori anche professionalizzato per 20 profili sono d'accordo era quella parola deve che non mi che non mi che non mi devo dire mi crea sempre dei film cioè che noi si debba impostare la laurea assolutamente per quella specifica prospettiva occupazionale scusami attenzione dipende come declini la prospettiva occupazionale se la prospettiva occupazionale la declini molto stretta hai un certo tipo di problema se la prospettiva occupazionale è declinata in maniera opportuna e coerente non ti crea questo tipo di problema poi c'è un problema legato invece all'indicazione e questo è più complesso dei codici ISTAT allora lì diventa un problema grosso però ovviamente c'è un livello oltre il quale ricordiamoci che poi vale il buon senso del valutatore e la capacità del valutatore e questo è l'elemento importante di conoscere il contesto sia culturale sia lavorativo allora ovviamente in questo schema ANVUR dà come riferimento le diverse sezioni di riferimento della scheda sua quindi in sede di valutazione uno deve andare a cercare le risposte a questi elementi in quei diversi quadri della scheda sua il CDS garantisce che gli obiettivi formativi intesi come risultati di apprendimento attesi siano chiaramente declinati per aree di apprendimento e coerentemente riferibili ai profili culturali e professionali dichiarati come vedi parla di profili anche culturali quindi non necessariamente per tutti ci deve essere per forza una professione di riferimento sulla tre la consultazione delle parti interessate e quindi in fase di progettazione il CDS assicura l'analisi approfondita delle necessità di sviluppo dei settori di riferimento negli aspetti umanistici scientifici tecnologici sanitari o economico sociali tramite consultazione delle principali parti interessate in assenza di organizzazioni professionali a cui riferirsi CDS assicura che sia creato un ruolo di riflessione ad esempio un comitato di indirizzo non è che devi per forza fare un comitato di indirizzo però è fondamentale che tu ogni tanto ti consulti e qui nuovamente vale il buon senso e la conoscenza del contesto anche qui nuovamente molte volte ci ritroviamo che dichiari certe cose come obiettivi culturali e professionali e poi ti vai a vedere la composizione del comitato di indirizzo e ti accorgi che le persone che stanno là dentro ci azzeccano poco e niente con quello che tu hai dichiarato semplicemente quelle sono le persone che conosci o che sei riuscito a far venire a partecipare a qualche riunione comitato di indirizzo non è obbligatorio è però diciamo che o io riesco ad avere una adeguata consultazione per esempio di studi di settore allora ci sono alcune categorie di sbocchi professionali sicuramente quelli codificati intanto distinguiamo ci sono gli ordini professionali bene quando c'è un ordine professionale questo vuol dire che tu hai studi regolarmente fatti vai sul sito dell'ordine degli ingegneri piuttosto che dei biologi piuttosto che dei medici piuttosto che dei giuristi degli avvocati scusate e sul sito trovi studi annualmente fatti dal consiglio nazionale dell'ordine che analizza il livello delle conoscenze gli sbocchi occupazionali già solo se ti prendi queste informazioni se in grado di io sono ingegnere ovviamente prima di essere professore sono regolarmente scritto all'albo degli ingegneri ricevo la rassegna stampa dell'ordine degli ingegneri del consiglio nazionale vi garantisco che se io prendessi solo tutti gli articoli che escono ogni giorno sul mercato delle professioni attenzione quello che mi arriva non è solo degli ingegneri mi arrivano le cose degli avvocati perché comunque la rassegna stampa essendo di un ordine professionale tratta in termini generali il problema delle professioni se io raccogliessi ogni giorno su questo stiamo facendo un po' di discorsi con il comitato di monitoraggio di economia chi c'è di economia allora economia sapete bene che si sta facendo un certo tipo di lavoro con francesco ricotta ci siamo confrontati su queste cose allora se uno già cominciasse a raccogliere queste informazioni del mercato delle professioni di riferimento di una facoltà e una persona sola della facoltà raccogliesse queste informazioni queste informazioni sono utilissime per tutti i corsi di studio e tu potresti fare benissimo questo tipo di attività per tutti i corsi di studio della tua facoltà per ingegneria per economia per giurisprudenza per medicina secondo me queste sono cose fattibilissime si tratta però di stabilire un modello organizzativo in cui la facoltà che è un organo superiore rispetto al corso di studi o il dipartimento però secondo me anche qui farlo a livello dipartimentale vuol dire duplicare le attività viceversa a livello di facoltà si potrebbe fare benissimo spregando poche energie e consegnando ai corsi di studio magari anche una prima elaborazione perfettamente utile per rispondere a questo requisito dove va il mondo della conoscenza e delle professioni consolidate ci sono gli ordini che fanno studi ci sono gli ordini quindi fondazioni che fanno studi esatto se questo se lo deve li ha scusami li ha se questo lo deve fare ogni corso di studio tu hai 30 corsi di studio in una facoltà rischi di avere 30 persone che per una quota parte del loro tempo si guardano sempre gli stessi documenti perché lo studio di settore è del consiglio nazionale degli ingegneri quindi qualsiasi laurea di ingegneria si dovrebbe guardare quel documento poi si cerca quello che gli interessa di più ma il primo screening lo può fare una struttura complessiva di facoltà dopodiché lo passa lo mette a disposizione dei corsi di studio dopodiché ogni corso di studio si guarda il suo qualche volta dopodiché ma i comitati di indirizzo dei corsi di studio hanno un obiettivo spesso e volentieri più mirato ce lo vogliamo dire chiaramente a portare risultati a casa risultati utili per il corso di studio che vuol dire tirocini tesi di laurea e magari se ci scappa anche qualche progetto di ricerca da portare avanti allora però se tu coniughi i diversi strumenti rispondi a mio avviso perfettamente a questo obiettivo evitando di duplicare gli sforzi così come attenzione per le facoltà grandi con tanti corsi di studio poi quello che si innesca è la caccia all'azienda che ti viene in comitato di indirizzo allora tutti pensate a un corso di studio in giurisprudenza piuttosto che in economia se ognuno va a chiedere all'ordine dei commercialisti piuttosto che all'ordine degli avvocati o classico a confindustria mi mandi un tuo rappresentante 280 corsi di studio veramente poi dai gettoni di presenza a queste persone che ti vengono nei comitati di indirizzo quindi alla fine ti cominciano a dire di no perché vengono tempestati di richieste e poi stiamo parlando di Roma io ho parlato di 280 nostri ma se sommo Roma 1 Roma 2 Roma 3 Fuoritalico più tutte le private e siamo tutti alla caccia di qualcuno che viene ai nostri comitati di indirizzo di fatto alla fine diventa un mestiere ma siccome non gli dai un gettone di presenza a queste persone che vengono magari ti vengono una volta perché sono amici per cortesia la seconda la terza volta sono esasperati e non ci vengono più soprattutto se gli fai perdere tempo allora è fondamentale secondo me trovare meccanismi continuo a dire di lavoro di facoltà di dipartimento per cui il comitato di indirizzo può avere un livello di facoltà piuttosto che di dipartimento piuttosto che di corso di studio più secondo me spostiamo il livello in alto più riusciamo a fare delle cose ragionevoli con minor fatica per tutti però anche qui non puoi dare delle indicazioni dei suggerimenti ma poi evidentemente sta alla libera organizzazione del nostro sistema qui vi ho aggiunto qualche materiale qualche slide in più di qualche commento razionalizzazione di concetti per esempio chi sono le parti interessate che è una delle cose che molte volte si fa fatica se non hai mai lavorato in questo senso anche qui sono categorie l'altro elemento da capire le parti interessate mi possono cambiare in maniera significativa anche con lo stesso titolo di corso di studio la parte interessata della meccanica a Roma è completamente diversa della parte interessata della meccanica a Milano piuttosto che a Modena la biologia sì sicuramente il biologo può andare a lavorare in istituto in cui fa analisi può andare a fare attività di ricerca in una farmaceutica può fare n altre allora come hai configurato il tuo corso di studio cioè hai un target ben preciso o è un corso di studio in una logica generalista quindi lo sforzo che dovrebbe fare il corso di studio è capire le macro categorie generali di parti interessate per quel tipo di formazione e in più quelle specifiche di riferimento per l'obiettivo formativo che mi sono dato questo per far vedere bene altra cosa le conoscenze e quindi le esigenze formative mi derivano dall'analisi di una serie di documenti per molte professioni la parte normativa è una parte fondamentale cioè se mi cambiano le leggi le norme di riferimento il corso di studio necessariamente deve evolvere in una certa direzione se mi cambia il livello di conoscenza scientifica no di un determinato set di discipline che rappresentano la parte guarda caso caratterizzante del corso di studio io quello devo avere il polso della situazione se si parla di big data adesso ieri avete sentito che Renzi ha presentato Industria 4.0 a Milano tutti i telegiornali e tutti i quotidiani oggi allora per parlare di Industria 4.0 significa avere certe conoscenze e allora chi è che le offre queste conoscenze e beh le lauree di elettronica informatica e industriali se oggi vogliono in qualche modo sfornare laureati che almeno se gli dici Industria 4.0 capiscono di che cosa stai parlando beh questo tipo di informazioni e parli di quarta rivoluzione industriale devi cominciare a parlargliene si era parlata di fusione fredda ma nel momento in cui la fusione fredda si fosse rivelata un qualcosa di effettivamente praticabile dal punto di vista scientifico o certe conoscenze della medicina come fai a non parlarne allora la necessità di aggiornare un corso di laurea deriva da tutti questi elementi vari meccanismi con i quali diciamo come sequenza uno può pensare al modo con il quale gestisco le parti interessate attenzione perché poi le domande è ma chi è che ha esercitato l'attività di consultazione quindi chi è il soggetto quali sono le parti consultate quali sono le modalità mi ci vedo una volta l'anno una volta ogni tre anni lo faccio prima di fare il riesame allora diciamo che una frequenza annuale potrebbe essere ragionevole potrei anche dire dipende dal corso di studio adesso non me ne voglia la collega di lettere ma se sono un dantista e diciamo lavoro su Dante ragionevolmente la conoscenza su Dante mi cambia ogni anno boh non lo so sto esagerando su altre discipline forse ogni sei mesi è quasi più opportuno se un corso di studio studia lettere classiche lingue classiche e stai fermo due anni forse magari non succede niente dipende se invece il collega che ti viene a visitare sa che sono state fatte delle scoperte su alcune cose e queste sono significative rispetto al cambio di conoscenze e allora magari te lo fanno notare quindi non c'è una regola universale questo vuol dire anche perché per quanto riguarda il compatto umanistico c'è il rapporto con l'istituzione e infatti non a caso ho parlato allora infatti scusami non a caso la prima cosa che ho messo è leggi e regolamenti perché se l'insegnamento tu hai dei requisiti di leggi per la professione di insegnante che oggi diventano molto più importanti e molto più significative molte volte di quello che diciamo all'università e non puoi non tenerne conto quindi se quelle discipline che hanno come obiettivo formativo anche dichiarato l'insegnamento e poi non puoi tener conto di come ti cambiano magari i programmi adesso dico un'idiozia quindi attenzione perché no adesso ieri ho sentito come cambiano gli aspetti di valutazione nelle elementari e nelle medie no per esempio per tornare all'esempio di filosofia c'è per esempio come disciplina trovate nel gioclassico non sono un po' più bene il gioclassico un pochino meno gli altri forse l'accolpamento con storia filosofia storia quindi fino a che punto i nostri corsi di studio per esempio formano in una lettura integrata di filosofia storia la legge germini ha associato in modo che potremmo anche discutere però è accaduto quindi noi fino a che punto ne teniamo conto non credo che questa riflessione ti abbia avviato in modo ecco allora se chi ti viene a fare la valutazione è uno invece attento a questi aspetti e te lo fa notare e tu sei sguarnito pesantemente perché molte volte non si seguono tutti gli sviluppi di questo aspetto ok qui vi ho riportato semplicemente per ricordarvele perché sono utili in assenza non sto toccando non ho ancora toccato le nuove logiche del riesame perché quelle sono ancora veramente imperscrutabili quindi speriamo che nei prossimi giorni Ambur ci dica cosa intende fare sui riesami queste erano le domande che erano presenti nelle schede per il riesame che di fatto andavano a intercettare proprio i temi delle parti interessate ve le ho ricordate perché comunque a prescindere dal fatto che cambieranno e quanto cambieranno sono e risultano sicuramente utili per ricordarci come impostare bene un discorso di confronto con le parti interessate per i cds telematici incontri periodi tra docenti e tutor responsabili per una diciamo attenta pianificazione delle attività didattiche perché sappiamo bene che sulle telematiche il ruolo dei tutor evidentemente è fondamentale le suddivisioni tra le varie forme di didattica cioè quella erogata e quella interattiva quella in autoapprendimento quella in presenza e quant'altro guardiamo la scheda di valutazione e poi ci fermiamo per il coffee break allora definizione dei profili in uscita indicatore R3A punto d'attenzione definizione dei profili di uscita viene dichiarato con chiarezza il carattere del cds nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti ovvero il primo punto di partenza è voglio fare un cds che abbia come base il fatto culturale o il fatto professionalizzante attenzione perché già qui a volte quando uno prova a tenere in piedi sia l'uno che l'altro come si dice casca l'asino perché c'è questo problema perché di fatto il 3 più 2 ci ha portato verso una deriva poco utile soprattutto per alcune facoltà parlo di casa mia così non faccio torto a nessuno un conto è fare i primi tre anni di ingegneria in una logica professionalizzante come era una volta il vecchio diploma vi ricordate l'esperienza del diploma che in alcune facoltà ha funzionato in altre non si è neanche probabilmente avvicinato modello tedesco modello tedesco ha i due profili una un percorso molto professionalizzante un percorso formativo di base e progettuale modello tedesco se tu fai il percorso professionalizzante se poi vuoi riprendere il percorso della laurea lunga ricominci da capo il gioco dell'oca ritorni al punto di partenza così era anche il nostro modello quando siamo partiti con il diploma e la laurea normale dopodiché poi ma come hanno già fatto tre anni che fai li fai ricominciare da capo e quindi a quel punto mediazione il 3 più 2 delle nuove lauree ha stabilito che tu dovresti avere un 3 con anche connotazione professionalizzante allora o tu fai un progetto formativo a Y quindi tu dici faccio un anno e mezzo che è uguale per tutti poi ti faccio la Y e mi fai un canale professionalizzante e un canale necessario a chi vuole proseguire qual è stato il problema vi dovete ricordare gli aspetti normativi una volta tu pagavi ogni curriculum lo pagavi in termini di docenza e in termini di requisiti molte volte siamo partiti con l'idea di curricula dopo un po' a certo punto abbiamo detto gran calderone perché non stiamo dentro i requisiti risultato molti corsi di studio che sono andati in valutazione adesso avevano un rad che era vecchio di quando è partito il 509 neanche più di tanto corretto quando siamo passati al 270 cioè siamo partiti con il 509 che non aveva i limiti di numerosità massima siamo passati alla 270 quindi riduzione del numero degli insegnamenti che già avrebbe dovuto determinare un bel cambiamento sul piano della scheda sua e molte volte non è stato fatto e molte volte dentro i rad trovate scritto che l'obiettivo è sia culturale sia professionalizzante no non è che non lo puoi toccare lo puoi toccare devi ripassare alcun il quale ti potrebbe rimettere in discussione anche le cose che non hai toccato però mettiamo già parti ordinamenti con tutto quello che comporta l'ordinamento eccetera o meglio devi stabilire una politica di passaggio di ordinamento eccetera però qual è il problema che proprio per evitare di toccare perché toccare significava un problema evitare di toccare perché se no significava andare alcun molte volte abbiamo lasciato lì delle cose che avevamo scritto dieci anni fa e poi ma ve ne dico anche un'altra a volte il nostro livello di conoscenza di questi oggetti l'ufo che diceva prima l'IA è tale che questo ufo è conosciuto da pochi cioè prevalentemente quelli che l'hanno scritto magari vi garantisco che è successo una volta quando vi ricordate quando facevamo l'autovalutazione col team qualità prima dell'entrata in vigore di AVA nell'autovalutazione c'erano le sezioni nelle quali dovevi parlare degli obiettivi e parlavi dei descrittori di Dublino un corso di studio X ha dato da fare l'autovalutazione a delle persone che non avevano mai lavorato sulla parte di progettazione del CDS quando si sono ritrovate a dover parlare di descrittori hanno detto boh senza preoccuparsi di capire se ci fosse qualcuno che ne sapeva qualcosa caspita dovremmo avere questa cosa non ce l'abbiamo e non ce l'abbiamo perché non ne abbiamo mai sentito parlare hanno riscritto i descrittori senza sapere e quindi a un certo punto non mi ricordo come è venuto fuori che le cose descritte da una parte in sede di controllo non corrispondevano alle cose che stavano sul RAD peraltro erano scritte anche meglio ovviamente perché erano state scritte dopo però questo per farvi capire che a volte non abbiamo il pieno controllo di queste cose nuovamente in sede di valutazione è vero come dicevi tu Cecilia che poi uno si prepara però a volte le scopre se solo si prepara perché molte volte questo castello è talmente grosso che francamente bisognerà toccare dei corsi di formazione per i CPS ma senza no no allora due aspetti che il presidente di CPS che arriva quest'anno che magari ha preso l'anno scorso ha lavorato perché l'anno perché si mette l'anno ma non cioè ti arriva l'anno senza toccare i tecnicismi più spinti allora due aspetti su questo uno è l'aspetto della formazione due è l'aspetto della rotazione che è l'altro grosso nodo spesso e volentieri fare queste cose diventa una gabbia perché chi lo sa fare ormai a volte come facciamo noi cioè diventiamo i portatori dell'informazione e non la vogliamo cedere a nessuno dall'altro lato tu la vorresti cedere ma non c'è nessuno che se la vuole prendere quindi quello che le aziende fanno quello che le aziende fanno che è la job rotation è strumentale proprio per condividere e far crescere in maniera equilibrata tutti allora vediamo le cose e chiudiamo no e questo è il problema viene dichiarato con chiarezza il carattere del CDS le conoscenze le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale sono descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati di apprendimento attesi i profili professionali gli sbocchi e le prospettive occupazionali sono ben definiti e tengono realistamente conto dei destini lavorativi degli laureati ovvero e questo è un discorso ovviamente delicato dovresti formare profili che poi hanno tra virgolette prospettive oppure dichiarare in maniera esplicita che quel corso ha un obiettivo culturale e non è necessariamente legato a uno sbocco professionale attenzione l'obiettivo vero è quello della chiarezza di quello che trasferisco allo studente gli obiettivi formativi specifici risultati di apprendimento attesi disciplinari e trasversali quindi facciamo riferimento ai descrittori di Dublino 1, 2, 3, 4 e 5 sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CDS l'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli obiettivi in fase di progettazione sono state approfondite delle necessità di sviluppo umanistico scientifico tecnologico dei settori di riferimento sono state attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate studenti docenti organizzazioni scientifiche professionali del mondo della cultura della produzione quindi attenzione non è che il punto di riferimento è solo l'azienda cioè non deve passare questo messaggio sono anche le associazioni culturali sono gli enti più importanti di riferimento a seconda di quello che io voglio creare in assenza di organizzazioni professionali il CDS assicura che sia creato un luogo di riflessione coerente con i profili culturali in uscita e che rifletta approfondisca e fornisca elementi quindi attenzione il comitato di indirizzo non è obbligatorio se io riesco a costruire un insieme di cose e le costruisco bene il comitato di indirizzo può essere anche un momento in cui ogni tanto faccio un confronto se però non ho basi di informazione adeguate allora quello diventa il punto centrale sulle telematiche sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili è indicata la struttura del cds e la sua articolazione in termini di ore tale indicazione hanno effettivo riscontro nell'erogazione di percorsi formativi ci fermiamo qui break ecco